Candidato sindaco per il gruppo al centro Il Cittadino. Signor sindaco, siamo al suo terzo mandato. Come è nata questa sua decisione di impegnarsi ancora per la terza volta? Allora, sicuramente non è stata una decisione semplice, nel senso che amministrare un paese oggi come oggi è veramente difficile, complesso, ma ciò che mi ha spinto è stato sicuramente l'adesione del gruppo e anche i cittadini che in qualche modo mi chiedevano se fossi disposta a proseguire questa avventura insieme a loro. Quindi quando c'è la passione, la passione e la motivazione ancora presente è giusto provare a continuare a metterci a disposizione dei nostri cittadini. Dopo dieci anni c'è ancora tanta passione? Assolutamente sì, perché credo che come momenti di difficoltà se non ci fosse la passione non avremmo più persone disposte ad amministrare. Perché veramente a volte la burocrazia ti frena in tante cose e devi avere passione, la volontà di mettere a disposizione tanto del tuo tempo, anche il tempo personale per il bene della tua comunità. Ecco, il nome della lista è Al centro del cittadino. Ecco, ci spieghi cosa significa Al centro del cittadino? Che il cittadino è il vero sindaco di Costa Masnaga? Assolutamente sì, nel senso che è un logo che ormai portiamo avanti da tre anni, sarà riconfermato anche quest'anno. e Al centro del cittadino significa proprio che gli amministratori devono cogliere qual è l'esigenza e il bisogno dei propri cittadini, anche del singolo cittadino, che poi mi viene da dire quando riesce ad aiutare un cittadino anche nelle piccole cose che sicuramente non sono eclatanti e non vanno sul giornale, ma credo che sia il modo più bello di un'amministrazione di mettersi a disposizione della propria comunità. Nel 2019 lei è stata eletta con una balanga di voti, ecco, ha potuto avere un'esperienza in questi dieci anni. Cosa chiedono i cittadini ad un sindaco? Innanzitutto credo che un sindaco poi si inserisca all'interno della propria comunità anche con le proprie caratteristiche, con il proprio carattere e le proprie competenze. Quindi io un po' anche per lavoro professionale quello che avevo da mettere a disposizione, soprattutto nell'immediato, era la capacità di ascolto e la volontà di dover aiutare i miei cittadini. Quindi i cittadini chiedono questo. Chiedono di essere ascoltati, chiedono che gli vengano risolti i propri problemi e devo essere onesta, amministrare a Costa Masnaga, nonostante sia complesso e anche molto gratificante perché abbiamo una comunità sempre molto attenta e che risponde alle varie chiamate degli amministratori. Credo che non sia da tutti poter vantare 100 volontari che quotidianamente operano all'interno della nostra comunità e questo numero è un po' l'orgoglio di tutti noi amministrazioni perché se facciamo anche conto che sono nonni, genitori che magari lavorano anche ma che vogliono mettere a disposizione della comunità il proprio tempo e quindi credo che sia un bel gioiellino da preservare e dà l'idea di come sia un pochino la comunità di Costa Masnaga. Sicuramente una comunità attenta e una comunità disposta a mettersi a disposizione degli altri. Lei ha dovuto lasciare il suo lavoro di insegnante, l'è costato? All'inizio sì, mi è costato anche perché poi io nel primo mandato sono diventata mamma, avevo un bambino piccolo, sono comunque sempre stata in comune e perciò mi è costata la scelta però devo dire che è stato anche uno stimolo nuovo per imparare nuove cose perché insomma si impara sempre anche dopo dieci anni credo che devo ancora imparare a fare il sindaco perché le cose cambiano, le motivazioni sono diverse, i progetti sono diversi e ogni sfida porta con sé un nuovo miglioramento quindi bisogna sempre avere l'umiltà di poter dire siamo qui ancora di imparare tutti insieme. Operatività, concretezza, responsabilità e presenza costante sono state le linee che l'hanno guidato in questi anni sarà così anche per i prossimi? Assolutamente sì perché mi viene da dire è l'unico modo in cui sarei capace di poter fare il sindaco con concretezza, presenza perché credo che sia questo che la mia popolazione e la mia comunità si merita quindi assolutamente non si può prescindere da questo modo di operare non sarei capace io ma come del resto tutto il mio gruppo è abbastanza naturale vedere gli amministratori che concretamente operano sul territorio per risolvere una problematica quindi penso che sia l'unico modo con cui siamo capaci di amministrare. Gli obiettivi dei cinque anni passati sono stati raggiunti tutti quanti? Non tutto, qualcosa non è stato raggiunto perché magari nel corso dei cinque anni di mandato sono cambiate anche magari le esigenze o le opportunità e sono stati raggiunti invece anche altri obiettivi che magari cinque anni fa non erano stati previsti all'interno delle linee programmatiche perché non c'era ancora l'opportunità di sfruttare questo tipo di progetti quindi progetti nuovi e progetti invece portati avanti. Ancora non tutto è stato concluso sarà sicuramente il punto di partenza da cui riparterà la prossima nuova amministrazione qualora fossimo eletti. Leggendo la relazione di fine mandato abbiamo notato che il vostro impegno maggiore in questi anni sono stati i servizi sociali e i servizi per l'istruzione e lo sport per i prossimi anni sarà lo stesso? Assolutamente sì nel senso che la presenza di un'amministrazione deve essere una presenza per i cittadini e quelli che abbiamo appena elencato servizi alla persona, l'istruzione, lo sport è sicuramente il settore dove i nostri cittadini ci sono e dove noi vogliamo esserci per i nostri cittadini è importante sottolineare come ci deve essere un'adesione da parte dell'amministrazione a questi settori e a queste realtà infatti penso che non sia così scontato se a Costa Masnaga abbiamo realtà importanti anche dal punto di vista sportive perché oltre a sostenerle per quello che possiamo dal punto di vista economico c'è proprio anche un sostegno di vicinanza concreta e di operatività concreta perché associazioni e amministratori sanno che la loro missione è quella di aiutare a crescere i nostri ragazzi dal punto di vista sportivo e dal punto di vista umano quindi ci deve per forza essere un'adesione di intenti e questa cosa nelle nostre realtà devo dire che c'è Lista vincente non si cambia come sarà composta la nuova lista? Avremo invece dei cambiamenti per ragioni anche fisiologiche nel senso che qualcuno per motivi personali qualcuno per età na grafica ha deciso di fermarsi e avremo invece nuovi ingressi e la cosa che ci voglio sottolineare è che noi siamo realmente una lista civica nel senso che Non negati a nessun colore politico? Assolutamente no è ovvio che i 12 componenti della lista avranno i loro orientamenti politici che sinceramente non so non ho mai chiesto e veramente poco mi interessa perché credo che la sintesi di varie pluralità politiche e di vari pensieri politici sia la cosa migliore per poter poi riuscire a dare il servizio migliore ai nostri cittadini Ho scelto insieme al mio gruppo ma soprattutto io i nuovi candidati le nuove persone che inizieranno come questa avventura soprattutto in termini di competenze perché abbiamo ancora dei progetti importanti due soprattutto sono progetti che si concretizzeranno qualcuno a breve qualcuno magari in un lasso di tempo un pochino più dilatato e ho scelto Si possono sapere? In questo momento no ma perché sono abituata a dire abbiamo fatto non a riempirci la bocca di quando faremo faremo si sta lavorando l'impegno è costante sono progetti e progettualità che si stanno portando avanti qualcuno anche da due anni e mezzo che però è giusto anche dire quando li avremo concretizzati perché poi lo sappiamo sempre che c'è il problemino non il problemino uno avrebbe dovuto già essere partito ma poi per altri problemi a volte legati anche alla burocrazia non è ancora stato diciamo non ha ancora visto il proprio avvio però proprio per questo motivo ho scelto persone che potessero mettere le proprie competenze a disposizione della comunità perché credo che sia anche bello potere valorizzare le competenze dei miei cittadini e chiedere a loro di poterle regalare alla comunità e sono contenta di averne trovato in loro disponibilità motivazione tanta motivazione sto riscontrando in questo periodo in cui ci siamo incontrati e quindi credo che sia uno stimolo importante per andare avanti qualora fossimo eletti ma sicuramente ci può dire l'opera più importante che avete realizzato in questi cinque anni assolutamente sì perché è un'opera a quale tengo particolarmente e personalmente e poi perché mi piace pensarla come la sintesi di com'è realmente Costa Masnaga l'opera a cui mi riferisco è chiaramente Maciolandia è stata inaugurata dieci anni fa e devo dire che probabilmente a quel tempo già l'amministrazione e l'associazione Mattia Macio è stata lungimirante perché poter pensare di realizzare un parco giochi inclusivo quando ancora non si parlava di parco giochi inclusivi quando ancora non c'erano i contributi regionali noi abbiamo avuto il coraggio di realizzare un'opera importante che desse realmente l'opportunità a tutti i ragazzi fragili di poter giocare insieme agli altri che è costata anche tanto quell'opera ci è costata tantissimo però credo che siano i soldi miglior spesi 100.000 euro da parte del comune 100.000 euro da parte dell'associazione credo che non sia scontato per un'amministrazione poter contare su un'associazione che decide di investire 100.000 euro quindi credo che sia proprio la sintesi di come siamo a Costa Masnaga veramente la mia comunità è sempre molto attiva e insieme credo che possiamo continuare a fare grandi cose auguri a loro grazie